Musica Amici di Atisport 24 bentornati Nuova puntata di 2 metri la palla noto vista da vicino Torniamo oggi ad occuparci di circolo nautico posillivo e per farlo è un piacere ritrovare in nostra compagnia il capitano rossoverde Paride Saccoia Ciao Paride, bentornato Ciao a tutti Paride, iniziamo dall'ultima uscita ufficiale il match giocato è purtroppo perso sabato scorso a Palermo contro il Telemar 15-11 il punteggio finale quali sensazioni vi ha lasciato questa partita? Diciamo positive però il risultato è stato negativo quindi non è che siamo tanto contenti nel senso che una partita che come quella con l'Ortigia ci ha dato comunque dei segnali importanti purtroppo anche in questa partita abbiamo subito un break negativo che poi a inizio partita diciamo che a metà secondo quarto che ce lo siamo poi portati per tutto il corso della gara e non siamo riusciti a recuperare il gap e sulla vostra prestazione andando proprio a spulciare il tabellino ho notato questi due dati, te li sottopongo quanto hanno inciso le percentuali registrate con uomo in più tanti gol, pochi gol segnati e uomo in meno ottima la percentuale del Telemar sulla sua superiorità numerica rispetto ad altre partite magari il ritmo che è stato un po' più alto ci ha messo un po' in difficoltà il Palermo comunque è una squadra di alta classifica che gioca a ritmi molto alti ha fatto anche diciamo ottime partite anche con Brescia, Recco quindi secondo me questa è la differenza principale tra chi è nella zona alta della classifica e chi è nella zona bassa quindi l'uomo in più da inizio anno non è che vada benissimo però diciamo trovo quest'altra motivazione rispetto alle altre partite in più per il fatto che non è andata bene anche perché eravamo senza due o tre elementi importanti che quindi hanno inciso ovviamente a livello fisico abbiamo fatto pure un bel tour di partite con turni infrasettimanali diciamo che non eravamo al meglio a Palermo quindi va bene come è andata non ci fa piacere pensavamo di poter fare il risultato purtroppo quei 3-4 minuti in cui abbiamo preso dei gol facili ci hanno spezzato le gambe non siamo riusciti a recuperare hai sottolineato l'importanza della prestazione positiva che vi dà segnali incoraggianti per il resto del cammino cosa vi ha detto Mr. Brancaccio al termine del match? Era un po' come noi molto arrabbiato perché è stato un peccato però abbiamo dimostrato noi stessi che se vogliamo lo possiamo giocare un po' con tutti tolti Recco e Brescia quindi diciamo lo stato d'animo è lo stesso abbiamo un po' di rammarico per essere partiti male in campionato e quindi siamo vogliosi di recuperare i punti e fare i punti diciamo che abbiamo perso per strada e di fare bene anche con squadre che si trovano in una situazione più tranquilla o che puntano magari al terzo o quarto posto anche perché l'equilibrio nel torneo è sovrano e poi gli episodi possono sempre succedere guardo un attimo all'ultimo turno fischio di una brutalità si cambia la partita tra Catane e Savona duello punto a punto e pareggio la distretti ecologici che va a Trieste trova il pareggio nel finale quindi anche il posilipo ha il diritto barra dovere di sperare in qualche punto importante contro pronostico assolutamente penso che comunque noi sulla carta siamo una squadra ben costruita e a tratti secondo me in questo campionato si è visto e dobbiamo ancora migliorare possiamo anche noi fare dei punti magari per altri inaspettati io ho molta fiducia nella squadra nei miei compagni nell'allenatore quindi come a inizio anno non facevo drammi adesso non mi esalto sicuramente per delle prestazioni positive qualche punto che abbiamo conquistato ma la strada è ancora lunga il campionato è lunghissimo la classifica è corta quindi può cambiare veramente ancora di tutto e voglio affrontare con te quella che è stata la novità più grande degli ultimi giorni la dirigenza ha ufficializzato una nomina veramente di quelle roboanti per il peso specifico della figura che è stata scelta ovviamente come tutti sanno Pino Porzo è stato ufficializzato come nuovo direttore tecnico del circolo Nautico Posillipo chiedo a te capitano della prima squadra e giocatore rosso verde praticamente da quando sei nato che tipo di opportunità è per la crescita del progetto pallannuoto del circolo il ritorno di una leggenda perché al di là di quel che ha vinto da giocatore penso che un dato come quello dei 45 titoli vinti parli da solo diciamo che è un bel segnale secondo me per il Posillipo e per la pallannuoto in particolare Pino uno sportivo un'icona del sport napoletano quindi sono contento di questa scelta a discapito della classifica che magari non rispecchia le intenzioni della società perché comunque la squadra è stata costruita non stiamo andando bene ma ci dobbiamo riprendere la scelta di Pino continua in un progetto di costruzione per crescere nei prossimi anni e tornare a diciamo nelle parti alte della classifica che hanno sempre contraddistinto il circolo il Posillipo è un passaggio importante per provare a riprendersi e a dare continuità ve lo propone il prossimo turno scontro diretto alla Scandone contro la De Hacker Bologna partita che all'andata vi ha visto sconfitti dopo un bruttissimo approccio sicuramente c'è grande voglia di fare bene c'è voglia di sfruttare il fattore campo e contro una rivale che comunque ha il suo bel potenziale offensivo che partita prevediamo secondo te? mi auguro e diciamo che sono sicuro che non sarà come la partita d'andata lì eravamo veramente all'inizio di una costruzione di gioco non eravamo ancora rodati quindi ci ricordiamo molto bene gli errori che abbiamo fatto nella partita precedente spero che sarà tutto diverso diciamo che giochiamo in casa e dobbiamo fare punti quindi siamo convinti di fare un'ottima prestazione facendo seguire anche il risultato a questo chiudiamo con l'ultima battuta dove si decide questo match loro hanno comunque due centri di livello al Tommy Alfonso che si è rivelato una piacevole conferma era una scommessa però sono unanimi le recensioni sul suo rendimento positivo un totem del ruolo come Arnaldo Desert e poi alcuni tiratori sul perimetro uno su tutti i Lex Manzi quindi secondo te quali sono le chiavi di lettura per provare a portare a casa questo match ma diciamo che queste partite tra diciamo equilibrate si 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 vincono e si perdono con soprattutto noi più o meno quindi quelli saranno importanti da da segnare da difendere quindi secondo me sarà una partita punto a punto che speriamo vada bene va bene chiudiamo così la nostra chiacchierata ringrazio Paride Saccoia per la sua disponibilità e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Paride grazie ciao ciao alla prossima